In questo video vi mostrerò come ottenere il bastone meteoritico, un'arma estremamente potente specialmente in early game che scala S con l'intelligenza e non solo, vedremo anche dove ottenere una magia davvero niente male. Benvenuti mie ombre in una nuova guida su Eden Ring, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la spiegazione. Tanto per cominciare, dove siamo? Siamo nella prima zona, ovvero a Sepolchre, quindi all'inizio gioco, subito dopo aver passato il tutorial. Qua abbiamo il nostro luogo di grazia a primo passo e da qui dovremo recarci ad est, o a destra se preferite, nelle rovini incenerite dal drago ma tranquilli non dovremo affrontare nessun drago. L'unico consiglio che mi sento di darvi è prendete prima torrente perché ci servirà per fare un po' di slalom tra alcuni nemici che non sono proprio del nostro livello perché questo bastone si prende in una zona che in realtà dovremo visitare più avanti. Ma tranquilli, non dovremo nemmeno percorrere chissà quanta strada o attraversare chissà quali zone pericolose, semplicemente è il gioco stesso che ci teletrasporta in quella zona là, praticamente da dove siamo adesso e tra poco capirete il perché. Allora, eccoci qua nelle rovine, iniziamo a far fuori un po' di nemici, non è obbligatorio in realtà farli fuori ma comunque visto che rompono le scatole facciamoli fuori. Occhio perché qua ci sono dei cani un po' aggressivi che, sì, potrebbero farvi male. Eccone uno per esempio. Albero, albero! Via, ok. Very good. Andatemi ai lupi. Vediamo se riescono a far fuori quel cane senza che io muova un dito. No. Vai. Va bene, ci penso io. Ok. Qui gli unici nemici pericolosi sono appunto i cani. Poi basta fare un po' di attenzione, niente di che. In questo gioco non viene perdonato nulla, quindi mai sottovalutare i nemici, anche i più scarsi. L'ho imparato a mie spese. Tra le altre cose, se vi interessa, sono in live praticamente tutte le sere su Twitch, proprio con Elden Ring. Sto facendo un sacco di esplorazione, ho trovato diverse cose interessanti. Credo sia proprio parte del gioco, no? Esplorare, anzi, una delle cose più belle probabilmente. I miei lupi, ecco. Mi riescono ad attaccare o no? Ok. Questo è il cane un pochettino più potente rispetto agli altri. Sì. Ok. C'è sicuramente qualche altro nemico. Uh. Uh. Guarda qui, chi c'è? Fuffi. Eh. Mana. Andiamo solo, becco da qui? Sì. Ma guarda, per pochissimo non l'ho shotto. Va bene. Oh. Per una volta mi siete stati utili. Allora. Eh. Qua abbiamo qualcos'altro. No. In realtà, ripeto, non è obbligatorio, ma... Già che ci siamo, perché privarcene, no? Oh. Chi ho visto? Poi da astrologo... Veramente, non ci si può distrarre per nulla. Allora. Ok. Nemici fatti secchi. Qui abbiamo però... Un topaccio. Ve lo faccio vedere perché da questo cadavere potrete... Raccogliere una chiave di pietra. Che non è affatto male. Allora, a questo punto andiamo giù. Qua. Occhio. Qui c'è una specie di imboscata. Ci sono ratti ovunque. Quindi procedete con cautela. Oppa la la. E anche questo. Eh vabbè, dai. Vediamo se ci riescono. Oh, che bello. Una soddisfazione. Intanto me la danno. Dunque. Altri topi. C'è solamente uno qui? Qui sì. Ecco che rimano rinforzi. Uno da giù. I lupi fanno da scudo. Che infine conti è quello che devono fare. Ma... Ora ci penso io. Vai. Perfetto. Ci siamo. Allora. Andiamo giù. La prima volta che sono entrato qua... Eh... Ci sono rimasto male. Molto anche. Ho detto... Ehi, che bello. Un tesoro. Apriamo. Vittima di una trappola di trasferimento. Ebbene sì. Questa trappola ci porterà in una zona che in teoria... Si dovrebbe visitare, come vi dicevo prima, più in là. Ok? Ma è il gioco che ci manda. Noi non stiamo facendo l'unanimale. Stiamo sfruttando quello che gli sviluppatori ci hanno messo a disposizione. Giusto? Giusto. Bisogna solamente adesso fare attenzione a non crepare. Cosa... Non semplicissima. Comunque. Allora. Dobbiamo scendere a destra e andare giù di là. Verso un luogo di grazia. Guardate dove siamo, tanto per cominciare. Lontanissime, eh. Lasciamoli stare questi. Non diamogli fastidio. Piano piano. Più che loro, c'è un nemico da tenere sotto controllo. Che è abbastanza potente. E che fa un male bestia. Per fortuna non lo abbiamo visto. E non lo abbiamo incontrato. Ok. Ok. Vabbè, ho schiacciato. Fa niente. Allora, scendiamo. Eccolo qua, il luogo di grazia. Perfetto. Perfetto. Vai. Ricarichiamo anche le ampolle, già che ci siamo. Ok. Qui, naturalmente, non si può utilizzare il teleport, che in realtà è la cosa più ovvia che verrebbe da fare. Visto che siamo in una zona decisamente proibitiva per il nostro livello. Ma non lo faremo. Non lo faremo. Intanto comunque bisognerebbe andare all'esterno. Eccoci. Adesso. Torrente. Non è obbligatorio, ma, ripeto, non vedo perché privarcene. Occhio ai nemici. Usciamo lì dove sono. Palude di Eonia. Allora. Vediamo se trovo subito la strada, perché non è scontato. Poi vi faccio vedere anche il puntino sulla mappa, così... Non vi sbaglierete. Allora, dobbiamo andare alla ricerca... Ecco. Di una rovina. In particolare di una. Vediamo se è questa. Non è questa. Cioè, o meglio, il luogo è questo. Devo solo trovare la rovina giusta. Eccola qua. Trovata. Scendiamo. Qui ci sono fiori velenosi. Vi sconsiglio di passare di lì. Possiamo farlo direttamente da qua. Bastone meteoritico. Ok. Ho affrontato un po' di nemici perché, sì, mi stavano attaccando. Comunque non sono così potenti. E li potete tranquillamente affrontare. Allora, invece, andiamo a vedere quello che ci interessa. Il bastone meteoritico. Eccolo qua. Come vedete, scala S con l'intelligenza. Quindi, naturalmente, per un astrologo va da dio. Ma non soltanto. Anche per altre classi magiche. E in effetti passivi, guardate un po', potenzia le stregonerie gravitazionali. Intanto lo equipaggiamo. Ed è proprio quella magia lì che andremo a prendere adesso. Perché in accoppiata con il bastone, fidatevi, è estremamente potente, specialmente in early game. Ecco comunque intanto il bastone. Vi faccio vedere anche il punto esatto in cui mi trovo. Naturalmente, la mappa è quello che è. Perché ancora, non essendo arrivato in questa zona qua, non ho il frammento che mi permette di vedere tutto nel dettaglio. Però così potete farvi un'idea poco più a sud di queste rovine. Adesso invece andiamo a prendere la nostra magia. Che è poco più in qua, eh. Quindi non dovremo fare tanta strada, per cui è un peccato lasciarla lì, no? Occhio ai nemici. Andiamo giù. Qui. Ve l'ho detto occhio ai nemici, eh. Sto correndo un po'. Apriamo. Non ci sono trappole, stranamente. Proiezione rocciosa. Adesso la proviamo, eh. Vediamo se riesco intanto a sopravvivere a questo agguato. Uh. Ciao. Come sta? Tutto bene? Beh, sono loro che mi hanno affrontato, eh. Non è che glielo ho chiesto io, quindi... Si assumino le loro responsabilità. Tieni. Non mi avvelenare, però. Oh, aiuto. Fatto? Sì. Già qui avete ammirato la potenza del bastone. Torniamocene, però, in una zona un pochettino più safe, eh. Via da qua. E ritorniamo a primo passo. Perché no? Per andare ad imparare questo nuovo incantesimo, andiamo in un luogo di grazia. Memorizza incantesimo. Adesso lo sposto al posto di quello, poi dopo quando avremo più slot, chiaramente lo potremo aggiungere. Ecco qua. E che facciamo? Lo proviamo? Ma lo proviamo certamente. Qui dovrebbe esserci un bel tipetto. Allora, torrente. Eccolo. Non posso evocare nulla. Oh no, ok. Va bene. Non male, eh. Ok. Io direi che non è affatto male. Assolutamente no. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avevate già ottenuto questo bastone e anche questa fantastica magia. Ci rivediamo in un prossimo video, mi raccomando. Spoliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti le inquietate da cui i messaggi li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.